La velocità è ancora di scena sulla pista tedesca del Nürburgring, è il turno di quelli che la stampa sportiva chiama i moderni semidei, gli eroi del brivido, i giocolieri della morte. Gli eroi di Ben Hur se la svignerebbero molto lontano se solo vedessero questi rombanti mostri d'acciaio. Oltre 180.000 persone hanno assistito al furibondo Carosello, in cui spesso unica posta poteva essere la morte. Moderna Ben Hur, il pilota inglese Stanley Moss, già vincitore di una superba edizione delle Mille Miglia, ha saputo portare alla vittoria la sua Aston Martin, alla media di oltre 135 km orari. Quanto agli spettatori che assistevano alla corsa, è probabile che siano rientrati a casa alla media di 10 km orari.